In piena epopea dell'Expo 2015 che si celebra fino a ottobre per 180 giorni qui vicino, qui invece alla tradizionale Fiera di Milano, quest'oggi e per tre giorni c'è il tutto food, più che centinaia di aziende agroalimentari che espongono con un grande successo di pubblico e di operatori del settore. Noi siamo molto interessati in tal senso e quindi venite con noi, andiamo a trovare qualche curiosità. Giacinto Callipo, finalmente parliamo con un produttore di tonno che spezza tutti i grissini. Perché? Perché il tonno buono è un tonno duro, consistente. Sì, il nostro tonno si taglia con forchetta e coltello, quindi è lo slogan, il nostro anti-slogan che utilizziamo per descrivere la nostra qualità è lo standard di prodotto a cui puntiamo, quindi è un tonno compatto, un filetto che va veramente... non si sbriciola. Oh, per quanto riguarda la ventresca invece è un altro tipo di prodotto? La ventresca è un altro tipo di prodotto, è una parte del pesce, è la parte che ricopre la cavità addominale, insomma è la pancetta per fare il paragone sul maiale, visto che il tonno è il maiale del mare. È la parte più grassa, quindi lì sì che ci vuole una morbidezza, una morbidezza diversa, basta vedere le fibre del prodotto, la carne stessa, che sono intramezzate da uno strato di grasso, quindi sicuramente è una parte morbida. Dire Callipo al consumatore significa far ricordare anche a molte persone anziane il grande tonno calabrese, ma io vedo qui davanti la nuova generazione di Callipo, il mitico Pippo è a casa? Il mitico Pippo è a casa, io sono la quinta generazione, quindi suo figlio, insomma segue l'azienda, anzi le aziende, visto che da sei anni a questa parte siamo diventati un gruppo, abbiamo aperto anche un'azienda che produce gelati della stessa qualità del tonno, quindi quella filosofia non è stata tradita. Infatti volevo, la interrompo, le chiedo scusa, volevo informarmi, ma la tradizione dolciaria calabrese porta al tartufo, no? E voi avete ripreso quella tradizione? La tradizione è continua, Pizzo comincia ad essere conosciuta come la cittadina del gelato, è una tradizione che va avanti, noi l'abbiamo presa e stiamo cercando di allargarla, oltre i confini sicuramente regionali ma anche nazionali, quindi puntando anche molto sull'export, partendo dal tartufo che è il prodotto principe della maestria dei gelatieri pizzitani e poi abbiamo affiancato a quella tante altre referenze come vaschette, torte, insomma per avere una gamma completa. Il tonno pesce gira tutto il mondo nelle sue acque e in tutti gli oceani, ma anche la confezione di tonno calipo gira tutto il mondo. Anche il vasetto calipo gira in tutto il mondo, siamo presenti in 35 paesi oltre quello italiano, ovviamente non abbiamo una distribuzione capillare come può essere quella italiana, però una bandierina in 35 paesi con orgoglio possiamo dirlo che portiamo un pezzettino di Calabria nel mondo. Grazie Jacinto Calipo.